Il speaker per problemi di salute non è qui oggi e penso che Serenella Servidei ha preso il compito di sostituirlo in una overview sui trial clinici in corso, per cui rompiamo il ghiaccio della sessione pomeridiana che è tutta dedicata a trial clinici e approcci terapeutici, iniziando con questa overview di Serenella Servidei. No, l'overview di Michelangelo, ma riproposta a Serenella. Mi propongo le diapositive che mi ha mandato, non vi sto facendo i meriti, è un'emergenza. Lui parte da questo punto, 2012, e da una co-crane review che diceva che al momento nel 2012 non c'era evidenza di nessun effetto terapeutico, di nessuna molecola. Diceva che ovviamente il problema è che ci sono la disomogeneità, la rarità della evoluzione e anche la difficoltà di trovare dei gruppi omogenei su cui valutare l'efficacia. adesso invece le cose sono cambiate e dopo sette anni finalmente ci sono tutta una serie di trial che stanno partendo, che sono partiti e qui c'è un elenco approssimativo di alcuni, in cui alcuni sono in fase 1, 2, addirittura alcuni in fase 3. e diciamo che per capire come agiscono tutte le varie molecole soggette a trial bisogna anche partire dai diversi meccanismi su cui queste molecole vanno ad agire. e quindi questi sono tutti, è un cartoon che dimostra in maniera sintetica tutti i possibili target delle varie molecole. quindi ci sono una serie di trial che partono dalla simulazione della biogenesi mitogondiale, alcuni con la terapia genica, poi ovviamente tre saranno discussi in dettaglio più tardi, il rimodellamento metabolico, la stabilizzazione dei fosfoliquidi, della cardolipina, ci sarà l'intervento successivamente, la nicotinamide riboside che da tanto tempo se ne parla per l'evidenza di efficacia nei modelli animali e vedremo che in Inghilterra è partito il time anche questo, modulatore NADH, gli antiossidanti che non tramontano mai, la terapia con i nucleosidi, abbiamo visto ieri un esempio anche dell'efficacia e dell'effetto di questa terapia, dei risultati brillanti che si sono avuti, vitamine e quofattori, certo queste non ci sono trama, sono dei target terapeutici importantissimi, ricordo l'effetto veramente terapeutico anche risolutivo di riboflevina e coenzima Q, in specifiche patologie anche della stessa biotina e della tiamina, queste ovviamente sono farmaci che indicati in specifiche patologie, anche ieri diceva identificare malattie trattabili, anche io penso che sia giusto perché alcune di queste malattie trattabili sono quelle che rispondono in maniera efficace a queste vitamine e quofattori, ma queste non fanno parte dei trial che sono in atto, queste sono delle frecce di miso di Michelangelo che dice sempre che ci sono sempre dei trial che agiscono sulla biogenesi o sulla modulazione in aldena d'acca e questo è lo schema delle vie che entrano nella biogenesi mitocondiale e quindi fra tutti questi farmaci, la rapamecina che è un chemioterapico che agisce sull'autofagia, ci sono anche delle buone evidenze sull'animale però è ovvio che pensare a un farmaco che è un chemioterapico a meno che non ci siano delle indicazioni in altro genere è difficile da proporre. Altri farmaci come il pezzafibrato che sta partendo adesso sempre negli UK, il resveratrolo e sono tutti i farmaci che agiscono sempre come modulatore della biogenesi in particolare sulla PPA alfa, sulla Situin 1 e poi ancora la cicosporina che è un farmaco comunemente usato come immunosuppressore e ci sono evidenze che modula soprattutto il poro, il poro mitocondiale e poi ancora di nuovo la micotinamide riboside e gli iniquitori di part 1. E qua sempre le solide frecce che adesso andiamo nel dettaglio come frecce mi sfuga. Ed ecco qui, insomma, il pezzafibrato comincia un trial adesso in Newcastle e invece adesso la parte più interessante forse è quella regata alla vitamina B3, cioè la nicotinamide riboside perché ci sono stati due dimostrazioni di efficacia in due modelli di topo con deficit di citogromossidasi fatti da due gruppi diversi, il gruppo di Suomen e anche quello di Zevian e entrambi hanno dimostrato sul topo l'efficacia della vitamina B3 come diciamo precursore del NAD e che quindi va a agire sull'equilibrio NAD-NAD-H. Sapete che nella patologia mitocondiale c'è un'insufficiente produzione di ATP e un'insufficiente utilizzazione del NAD e quindi le due strategie sono o dare un precursore del NAD o ridurre l'utilizzazione del NAD. Entrambi questi studi, sfruttando le vie diverse, hanno però dimostrato che c'è una riduzione della produzione di delezione del DNA mitocondriale e c'è un aumento invece del DNA mitocondriale, c'è un miglioramento di questi topi sia nella manifestazione della malattia sia anche nella progressione della stessa malattia e le stesse cose le ha dimostrate Massimo Teriani attivando però il circuito della SITUIN1 e anche qua si dimostra che c'è un aumento dell'acidocromoossidasi e un miglioramento della sopravvivenza e anche della prognosi, diciamo l'evoluzione in questi topi e adesso finalmente parte il gestito da Kine di questo trial, quindi questi due trial non sono solo locali, cioè quindi l'industria non sono aperte a tutti, del bezafibrato e del micotinamide e riboside parte anche dei pazienti e vedremo i risultati. e poi vediamo se qui c'è una freccia, no? Non ci sono frecce e anzi c'è la freccia, c'è già gli antiossidanti modulatori del redox e questi non tramontano mai e in particolare l'anno scorso pure è stato presentato il risultato con il trattamento di pazienti con mutazione 3243 con KH176 che è appunto un antiossidante e dimostravano che c'era un miglioramento in qualche item, in particolare quello del suicidio se non mi ricordo male, in queste scale, non un effettivo miglioramento motorio sul 6-minute, no? Poi andiamo avanti, la terapia con nucleosidi, abbiamo visto la terapia con nucleosidi ieri, c'è la presentazione di Alice Donati, gli effetti veramente entusiasmanti in questi bambini con TK2, sono partiti dalla comparazione con la storia naturale e hanno visto che questo è un lavoro che è appena uscito, vabbè, questo perché questo farmaco aveva delle evidenze talmente importanti che è stato approvato molto rapidamente e quindi adesso anche in Europa può essere fornito, in particolare in Spagna sono fatti promotori della, come si dice, dell'approvazione di questo farmaco e ieri, appunto, ieri era l'altro ieri, comunque appena uscito questo lavoro su annasso-pneurologi che comunque fondamentalmente vi porta a quello che ci ha detto Alice Donati ieri, quindi miglioramento rispetto alla storia naturale dei pazienti molto gravi e poi segnalavano che un bambino che era in PEG ha tolto l'alimentazione per tube, per PEG, altri che hanno problemi respiratori hanno, sono staccati dal respiratore, ieri abbiamo visto il video del bambino trattato qui che aveva riaquisito alcune tappe motorie, quindi questo sicuramente è una delle cose nell'ambito delle patologie mitomundiali purtroppo limitato a una specifica patologia, insomma a uno specifico gruppo di malattie però molto molto promettente. e poi il genomediting, questo non parlo perché ci sarà poi la presentazione e infatti anche qui viene ricordato da me in gioco più tardi e qui abbiamo la terapia genica mediata con l'adenovirus, anche questo ovvero ha trattato successivamente in due comunicazioni, quindi uno sulla LON e uno da BISCOMI Gen Therapy for Metocondesis Promises and Pitfalls, quindi anche qua una strada abbastanza aperta a diciamo prospettiva di speranza per il trattamento. E questo è interessante perché questo è invece il ripodellamento metabolico e la rapacina ho detto prima che è un chemioterapia quindi particolarmente insomma difficile da gestire ma questo è un lavoro interessante che è uscito un paio di anni fa dell'effetto dell'ipossia sui topi. Anche questo ovviamente non è una cosa che può essere riproducibile nell'uomo ma sperimentalmente si era visto che l'ipossia nei topi migliorava una serie di parametri e anche da un punto di vista rispettiva la differenza tra il topo affetto e il topo normale e andando a innescarsi su una serie di di meccanismi, l'uzione di vie di patue alternative molto interessanti, ne avevamo parlato forse un quale due mitocom fa però poi alla fine è rimasto un po' così perché diciamo che è difficile da percorrere. E infine ecco di questo proprio non parlo perché ci sarà poi il collega della Stelta che parla dell'elagriperitide che è un farmaco che esce un po' dal solito meccanismo antiossidato, uno stabilizzatore della cardiolipina, inibisce il poro e la matoconda per malgrimiti si transisce un po' e agisce sulla produzione di radicali liberi e anche aumenta la sintesi di ATP di massa di invito su molti organi fra cui cuore, rene, neuroni e muscolo scheletrico. Questo ha 29 siti coinvolti in tutto il mondo, adesso siamo arrivati alla fase 3, noi stiamo partecipando alla prima parte della fase 3, quella in cui è un doppio cieco, per cui i pazienti sono valutati in doppio cieco, dopodiché seguirà la parte 2 in cui c'è il trattamento coper per tutti i pazienti inclusi nella prima parte della fase 3. Questi sono i vari centri coinvolti, tra cui ci sono cinque centri italiani, Mancuso, Noi, Lepostanza Romperti, Enrico Benzini, Antonio Toscano e Olimpio Musumeci e anche qua ci sarà tra poco la comunicazione specifica su a che punto siamo. E allora, qual è la difficoltà di affrontare un trattamento per le malattie mitocondiali? Della eterogenità clinica l'abbiamo visto in abbondanza, l'abbiamo discusso in abbondanza in questi giorni, del fatto che una stessa mutazione si può associare a differenti fenotipi e uno stesso fenotipo a diverse mutazioni, ci sono complessi problemi anche di natura genetica fra cui la eteroplasmia del dinamico mondiale, ma non solo. L'evoluzione di certi fenotipi che con il passare del tempo e l'acquisizione di conoscenze si espandono sempre di più. Oggi Enrico Bertini ce ne hanno fatti vedere due, qui Michelangelo ne menziona in particolare due, l'ARS2 che dalla epoplasia cerebellare associata alla mutazione dell'ARS2 a gravi e complesse encefalopatie o a ARS2 che comincia con una cardiopatia, dico comincia nel senso che i primi casi descritti erano cardiopatia e poi arriviamo all'eucodistrofia. Sono patologie multisistemiche, la doppia membrana mitocondiale è inaccessibile ai farmaci, le outcome measure sono ancora in parte da validare, c'è stato quel convegno sponsorizzato da Mito due anni fa per la validazione di alcune outcome measure nelle patologie però con muscolo prevalentemente affetto e poi anche perché manca la storia naturale, essendo patologie rare, essendo rappresentate da moltiplici fenotipi, alcuni di questi fenotipi sono limitati a pochissimi pazienti, addirittura ci sono alcune mutazioni private o geni privati che si identificano in una sola famiglia in un solo caso, è ovvio che fare una storia naturale di queste patologie è difficile. Per questo è importante la collaborazione internazionale, per questo è importante il coinvolgimento, l'abbiamo detto a più riprese di questi giorni, di tutte le figure coinvolte nel trattamento di queste patologie, quindi medici, tutte le figure multidisciplinari però anche i pazienti, le associazioni dei pazienti, è importante i registi dei pazienti, un linguaggio comune e spione, ha parlato Prochis prima, e anche la sfida di un registro globale che possa unire non solo i registi nazionali ma un registro globale che quindi utilizzi un linguaggio comune, questa è la sfida sicuramente più difficile non tanto fare il registro ma determinare e codificare un linguaggio comune. E quindi in conclusione, sì noi sappiamo di più, sicuramente siamo molto più avanti, abbiamo fatto vedere siamo partiti dal Cochrane View del 2012 però siamo ancora molto lontani, abbiamo ancora bisogno di sapere di più. Dobbiamo studi collaborativi, soprattutto per le storie naturali, l'implementazione dei registri nazionali anche nell'ottica di magari averne uno globale e linguaggio comune, HPO per tutti i registri se vogliamo fare un registro globale ma anche se persistiamo nella strada dei registri locali, essere pronti per i trial, quindi con tutte le H measure che devono essere validate. La collaborazione con l'EARN sicuramente adesso facilita queste collaborazioni tra stati e la collaborazione con l'EARN che è più americana, la collaborazione più globale e trasversale è sicuramente meglio. Grazie di aver fatto bene la lezione. Ottimo lavoro, Serena, non ti preoccupare. La presentazione è aperta alla discussione, se qualcuno ha qualche osservazione e commento poi in realtà anche entreremo nel dettaglio di qualcuno di questi trial con i rappresentanti delle case farmaceutiche che li supportano. Mi rimetterei a quelli che magari sono escluse dalle successive presentazioni. Io posso fare un commento generale. La faccenda della biogenesi mitocondriale è stata, sicuramente ci sono delle prove di principio importanti dei due modelli che ha dimostrato di miopatia che ha fatto Massimo e Anosoma Leiden. Tuttavia l'omeostasi mitocondriale è un processo che ha molte componenti in cui in buona sostanza vanno regolate la produzione dei mitocondri, l'eliminazione dei mitocondri e la dinamica che regola la distribuzione dei mitocondri nei vari tipi cellulari. La mia impressione è che non abbiamo ancora il quadro completo e bilanciato. Questo lo dico perché lavorando con la Valeria e con Paolo Pinton ci siamo imbarcati a cercare di avere un quadro più globale e soprattutto questa strategia non è stata sufficientemente testata nelle malattie con le mutazioni eteroplasmiche del DNA toconteale. Sicuramente vale la pena di intraprendere dei trial con farmaci in cui il profilo di safety è ben noto per cui non stiamo rischiando molto ma secondo me ci vuole ancora un pochettino di strada per capire bene. La rapa micina non è certo percorribile mentre la nicotinamide riposina è una vitamina e quindi non ha tutti i danni. E circa riposina, abbiamo visto che hai fatto un accenno, è curioso perché a una delle primissime riunioni mitocondri agli albori eravamo tutti qua a discutere se dare l'ossigeno ai pazienti e tutti dicevamo no, adesso pare che faccia bene il contrario. No, l'olipossia fa un danno anche perché induce delle cose. L'olipossia? Sì. Ma noi stavamo discutendo se fare la camera di per bari... Ah no, questa cosa non la ricordo più. E' una roba di 5, 6, 7 anni fa che io non lo puoi testimoniare. L'ho cancellato dalla memoria, mi ricordo quando ne abbiamo parlato... Quindi dare l'ossigeno a un paziente mitocondriale se non sappiamo quali sono le sue capacità respiratorie già clinicamente non va dato perché può inibire banalmente lo stimolo respiratorio. Quindi già così. Poi queste cose ci dicono che forse riposia stimolo alcuni altri meccanismi di compenso. A volte si creano, lo vediamo soprattutto nei pazienti che hanno un'insufficienza respiratoria e un'impossibilità che stabiliscono i meccanismi di compenso che se gli dà l'ossigeno non è scomparsi del tutto. Sì, questo è l'unico modo per studiare questa faccenda in vivo sarebbe sapere se i pazienti del Perù e del Tibet stanno meglio ma non siamo mai riusciti a organizzare ancora, non abbiamo quella potenza per organizzare lo studio del genere. Allora, ci sono altre domande per Serenella Servidei? Allora direi di procedere. Il prossimo intervento è uno di tre in cui rappresentanti delle case farmaceutiche presentano lo stato dell'arte della loro attività. Iniziamo con la Bioelectron e in sostituzione...